Vediamo come fare per formare i panini con un impasto di segale, sono i classici panini neri dell'Alto Adige. Ecco qua, io gli ho fatto fare la prima lievitazione, ora mi infarino le mani sempre con la segale e con un cucchiaione ne prelevo il primo panino, lo faccio rotolare nella scodella dove ho messo la segale, mi infarino anche le mani. La ricetta per intero, vi allego il link sopra in alto, la trovate in alto quindi, quindi dicevo a rotolo così in questo modo come una piccola pirlatura, li arrotondo, li metto direttamente sopra la placca pronti per lievitare e poi per infornare sulla carta forno, li abbasso anche un pochino dopo. Come sapete la segale non rimane elastica perché contiene poco glutine e quindi procediamo così, è molto, è preferibile farli a mano piuttosto in planetaria perché si appiccica tutto e non è molto indicato diciamo, invece facendo così l'impasto rimane morbido e possiamo lavorare meglio i panini. Questo tipo di cereale, appunto la segale, ha un elevato apporto vitaminico, sali minerali, buoni quantitativi di ferro e fibre e quindi svolge un'importante azione, migliora molto la salute intestinale e regola l'appetito creando un senso di sazietà e modulando anche gli zuccheri nel sangue. La segale è nota anche per l'elevata proprietà fluidificante del sangue, quindi è consigliata anche nei disturbi cardiovascolari. Questo pane nero è molto usato in montagna, in montagna specialmente in Alto Adige, Trentino Alto Adige, si mangia soltanto questo pane. Poi dentro è insaporito con i semini che mettono, qui c'è l'anice, finocchio, trigonella, molto profumati. Bene, continuo al rotondo. Con questa dose ne vengono otto, otto panini. Ecco qua, questi poi andranno coperti da pellicola, li metto distanziati perché poi crescendo si attaccano, anzi di solito vanno fatti proprio due a due che si toccano, che rimangono in cottura poi accoppiati. Bene, spero che vi sia stato utile questo video per la formatura di questi panini. Vi invito a farli perché ad esempio ho visto che in alcune diete invece del pane mettono questo tipo di pane, pane di segale, quindi sono adatti anche per la dieta, come abbiamo detto sopra, hanno un basso indice glicemico, la segale, e poco glutine, contiene poco glutine, quindi sono molto adatti anche per le diete. Ok, poi vi farò vedere la lievitazione e anche la cottura. Per il resto vi rimando alla ricetta per intero che trovate all'inizio, trovate il link all'inizio del video. Vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.